Giovanni Pico della Mirandola, un umanista tra teologia e filosofia. Giovanni Pico della Mirandola 1463-1494 è stato uno dei più importanti, intellettuali del Rinascimento italiano. Nato a Mirandola, in Emilia-Romagna, da una famiglia aristocratica, Pico ricevette un'educazione umanistica di altissimo livello. Pico studiò greco, latino, ebraico e aramaico, e si interessò a una vasta gamma di discipline, dalla filosofia alla teologia, dalla letteratura alla scienza. Pico è noto soprattutto per la sua Orazio De Ominis Dignitatei l'Orazione sulla dignità dell'uomo, un'opera filosofica pronunciata a Roma nel 1486. In quest'opera, Pico sostiene che l'uomo è un essere unico nel creato, perché è libero di scegliere il proprio destino. Dio, infatti, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, lasciandogli la libertà di scegliere tra il bene e il male, tra la virtù e il vizio. L'Orazione De Ominis Dignitate è un'opera rivoluzionaria, che ha contribuito a diffondere l'idea dell'uomo come essere libero e responsabile. Pico ha anticipato i temi dell'umanesimo moderno, e la sua opera ha avuto una profonda influenza sulla cultura europea. La formazione umanista Pico della Mirandola iniziò la sua formazione umanistica a Ferrara, dove studiò con il celebre umanista guarino veronese. A Ferrara, Pico imparò il greco e il latino, e iniziò a studiare la filosofia di Platone e Aristotele. Nel 1481, Pico si trasferì a Bologna, dove studiò dritto canonico e filosofia. A Bologna, Pico ebbe l'opportunità di incontrare alcuni dei più importanti intellettuali del Rinascimento, come Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola e Nicola Cusano. Pico fu particolarmente influenzato dalla filosofia di Ficino, che sosteneva la possibilità di conciliare la religione cristiana con la filosofia greca. Pico si interessò anche alla Kabbalah, la mistica ebraica, che influenzò profondamente il suo pensiero. Le 900 tesi Nel 1486, Pico pubblicò a Roma un libro intitolato 900 tesi. In questo libro, Pico sosteneva che tutte le religioni e le filosofie del mondo sono vere, e che è possibile conciliarle tra loro. Le 900 tesi provocarono un'ondata di scandalo in tutta Europa. La Chiesa cattolica accusò Pico di eresia, e il libro fu messo all'indice. Pico fu costretto a difendersi davanti a un tribunale ecclesiastico, ma alla fine fu assolto. L'Orazione Deoinis Dignitate nel 1486, Pico pronunciò a Roma l'Orazione Deoinis Dignitate, un'opera filosofica che ha contribuito a diffondere l'idea dell'uomo come essere libero e responsabile. In quest'opera, Pico sostiene che l'uomo è un essere unico nel creato, perché è libero di scegliere il proprio destino. Dio, infatti, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, lasciandogli la libertà di scegliere tra il bene e il male. Tra la virtù il vizio L'Orazione Deoinis Dignitate è un'opera rivoluzionaria, che ha anticipato i temi dell'umanesimo moderno. Pico ha sostenuto l'idea dell'uomo come essere libero e responsabile, e la sua opera ha avuto una profonda influenza sulla cultura europea. La morte.Pico morì a Firenze nel 1494, all'età di soli 31 anni. La sua morte fu un evento tragico per il Rinascimento italiano, e la sua figura rimase un simbolo di speranza e di libertà per molti secoli. L'eredità di Pico della Mirandola. Giovanni Pico della Mirandola è stato uno dei più importanti intellettuali del Rinascimento italiano. La sua opera ha contribuito a diffondere l'idea dell'uomo come essere libero e responsabile, e ha avuto una profonda influenza sulla cultura europea. Pico è considerato un precursore dell'umanesimo moderno, e la sua orazione De hominis dignitate è un'opera fondamentale della storia della filosofia. La sua figura rimane un simbolo di speranza e di libertà per molti secoli. Grazie. 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 Grazie.